Il virus del covid-19 è un'arma biologica. Per capire il senso di questa frase però bisogna tenere bene a mente tre punti fondamentali. Il primo punto è che le armi biologiche non sono necessariamente create in laboratorio. Ad esempio il vaiolo ha un'origine naturale, nessuno ha creato il vaiolo in laboratorio, però non di meno è un'arma biologica. Il secondo punto è che le armi biologiche non sono necessariamente armi di distruzione di massa, anzi sono pessime armi di distruzione di massa, perché sono imprevedibili e poi perché esistono ottime difese contro di esse. Grazie alle conoscenze mediche e scientifiche attuali riusciamo a contenere l'epidemia del virus anche più letale al mondo, sempre se usiamo tutti i mezzi a nostra disposizione, riusciamo a contenere tale epidemia a qualche migliaio di vittime. Quindi non si tratta certo di un'efficace arma di distruzione di massa, ne esistono di migliori. Però proprio il fatto di dover contenere un'epidemia del genere comporta una grandissima spesa economica e infatti le armi biologiche sono ottime armi per distruggere un'economia o destabilizzare politicamente un paese. Ad esempio la peste suina africana non uccide nessuna persona, però causa miliardi e miliardi di danni a un'economia, all'economia del paese colpito. Quindi si tratta di un'ottima arma strategica. Il terzo punto è che quando parliamo di armi dobbiamo capire qual è il loro contesto di utilizzo, il loro contesto di impiego. Non è che un'arma è più arma se esplode, ad esempio una granata non è più arma di un coltello solo perché esplode. No, in certi casi un coltello è più utile di un'arma, di una granata. Quando parliamo di attacchi biologici dobbiamo capire che ne esiste di due tipi, quindi esisteranno essenzialmente due tipi di armi biologiche. Le armi biologiche avranno essenzialmente due impieghi diversi. Il primo tipo di attacco biologico è quello manifesto, palese. Il secondo è quello occulto, nascosto. Un attacco biologico è palese, manifesto quando ad esempio in uno stato di colpo, in 50 città diverse, in vari punti di queste 50 città, ci sono epidemie con agenti patogeni letali, contagiosi, tutti questi eventi nello stesso giorno. In questo caso evidentemente nessuno ne dubita, si tratta di un attacco biologico. Però esistono attacchi biologici anche più subdoli, si tratta di quelli nascosti, occulti. Ad esempio, se prendiamo un virus endemico di una regione, oppure diffondiamo in un punto singolo di uno stato, un virus che potrebbe verosimilmente emergere in modo naturale in quella regione, in quella determinata area geografica, in questo caso sì, causando così un'epidemia, in questo caso sì, ci sarebbe un'epidemia molto grave, ma nessuno sospetterebbe che si sia trattato di, che possa essersi trattato di un attacco biologico. In questo modo metteremo in ginocchio il paese, senza però esporci alle ritorsioni, nessuno sospetterà già solo che ci sia stato un attacco biologico, figuriamoci di chi. Quindi pensiamo al virus del covid-19. Può avere un'origine naturale, ma questo non significa nulla. Si tratta di un'arma biologica in questo senso. Non è molto letale, ma nemmeno questo significa nulla. Anzi, il fatto di non essere molto letale, ma molto contagioso, di avere un lungo periodo di incubazione, sono tutte caratteristiche che lo rendono un'ottima arma per paralizzare uno stato intero, anche isolarlo commercialmente o in ambito internazionale. Questo l'ha dimostrato la realtà stessa. Possiamo vedere tutti come la Cina, che è stata colpita da questo virus, ha dovuto paralizzare intere città, con milioni e milioni di persone che non potevano più lavorare, produrre e consumare. Quindi sì, si tratta di un'ottima arma biologica. È indubbio.